Con le ufficialità di Domenico Mungo e Richard Lassic, arrivate tra ieri e oggi, il mercato a centrocampo del Teramo può dirsi quasi certamente concluso. Adesso in quel reparto mancherebbero le uscite, con Persia che sembra far parte di quella lista dei partenti nella quale c'è ancora Riccardo Barbuti, mentre Claudio Sparacello è ufficialmente un nuovo attaccante del Picerno. Ma quella è una zona del terreno di gioco, quella d'attacco, che vedrà comunque l'arrivo di un ulteriore innesto a breve. Perché se il centrocampo è a posto, per la prima linea c'è un vero e proprio casting che definirà il profilo migliore da mettere a disposizione di Bruno Tedino. Euseppi è ormai un calciatore dell'Alessandria che l'ha ufficializzato attraverso la propria pagina social qualche ora fa. Discorso che invece potrebbe essere intavolato con Adriano Montalto. Anche l'ingaggio della punta della Cremonese è elevato, ma ci sono già stati contatti tra il direttore sportivo Sandro Federico e Carlo Di Renzo, che lo rappresenta. Una telefonata arrivata nei giorni scorsi sul telefono del procuratore col dirigente Biancorosso che ha chiesto informazioni sul centroavanti. Se ne riparlerà probabilmente a breve. Nel reparto arretrato Tedino vorrebbe un centrale mancino per rendere più omogenea la batteria a propria disposizione. Con Alessandro Ligi c'era stato un abboccamento. Cosenza adesso interessa meno proprio perché non ha la caratteristica richiesta. Sul fronte campionato invece l'accoglimento di ieri da parte del collegio di garanzia del Coni del ricorso del Cerignola. Con la riammissione dei pugliesi in Serie C e il conseguente annullamento dei calendari impone a Ghirelli di rifare tutto da capo e in primo luogo alla FIGC di decidere l'allargamento della Serie C a 61 squadre. Una procedura che comunque non scatterà prima del pronunciamento del TAR, cui FIGC e Lega Pro si rivolgeranno in queste ore per ottenere in via cautelare la sospensione del provvedimento del collegio di garanzia del Coni, rinviando la decisione solo al mese di settembre. Responso atteso entro venerdì, dopodiché nel caso fosse negativo FIGC e Lega Pro dovranno correre ripari allargando il format e rifacendo da capo il calendario. Questo perché nel frattempo, avendo dovuto subire dal Coni anche la riammissione del Bisceglie e al posto della quale era stata tirata su la Paganese, i posti a disposizione erano esauriti e adesso ne va creato un altro in sovrannumero, considerando anche il fatto che le formazioni ripescate non possono essere escluse ex post. Insomma, anche con le regole imposte in maniera ferrea quest'anno i tribunali sono destinati, loro malgrado, a ridisegnare la geografia di un campionato, quello di Serie C, che si appresta a tornare a squadre dispari.